Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Questo per me è un video molto ma molto importante innanzitutto perché mi mostro per la prima volta, cosa che non avevo mai fatto prima e questo mi emoziona tantissimo. E poi perché questo sarà il mio primo video in collaborazione con Perline Fantasy e come potete vedere indossa anche questa bellissima maglietta con il logo che Cristina mi ha fatto avere e di questo sono davvero onoratissima. Prima di mostrarvi più da vicino i progetti che ho realizzato per questa collaborazione ci tenevo a dire due parole per Cristina, la proprietaria di Perline Fantasy appunto. Con Cristina ci siamo conosciute quasi per caso e da subito è nata una bellissima amicizia. Lei sa quanto io la stimi e penso di lei che sia una ragazza davvero dal cuore d'oro, una ragazza genuina che ama la creatività a 360 gradi e io la ringrazio infinitamente per questa bellissima opportunità che mi ha offerto perché questo per me è un sogno che diventa realtà. I progetti che ho realizzato e che troverete nei kit con il nome di Cristina sono questo anello realizzato con alcuni dei prodotti della Parpuka ovvero le Super Cheops, le Tinos, le Arcos e Rokai Toh 11.0. La fascetta dietro l'ho fatta utilizzando soltanto Rokai 11.0 ed aderisce perfettamente al dito. E poi c'è il bracciale realizzato anche questo con le Tinos, le Arcos, le Super Cheops Rokai Toh 11.0 con l'aggiunta di mezzi cristalli da 4 mm e le Minos. Ecco qui il bracciale per intero. Ci sono queste Rokai 11.0 tra le due Super Cheops che fanno questo effetto 3d così come le Super Cheops appunto. Adesso mettiamoci al lavoro dove vi farò vedere prima come fare il bracciale poi insieme faremo l'anello. Come vi dicevo per realizzare il bracciale Cristina avremo bisogno dei seguenti materiali che troverete nei kit che Perline Fantasy preparerà accuratamente per voi. Poi ovviamente vi lascerò il link nell'info box. All'interno di questi kit troverete gli stupendi prodotti della Parpuka come le Super Cheops, le Tinos, le Arcos, le Minos, mezzi cristalli da 4 mm, Rokai Toh 11.0, moschettone ed anellini. Per realizzare il bracciale avremo bisogno del farline da 12 e di un ago che ovviamente non saranno compresi nel kit. Cominciamo e mettiamoci subito al lavoro. Come prima cosa per facilitare la nostra lavorazione poggiamo sul nostro tavolo da lavoro l'intera sequenza che dobbiamo inserire sul nostro filo proprio così com'è ovvero una Tinos, un Arcos, una Super Cheops, un Arcos, una Tinos, un Arcos, una Super Cheops ed un Arcos dal primo foro e le Super Cheops anche da questo foro. Inseriamo questo sul nostro filo e ci ritroviamo tra poco. Una volta inserita tutta la nostra sequenza ripassiamo tra le perline, chiudiamo a cerchio e facciamo un paio di nodi. Ecco qui una volta chiuso a cerchio e fatto un paio di nodini ci ritroviamo questa forma e tagliamo il filo in eccesso e proprio per non lavorare vicino al nodo ci spostiamo attraverso i primi fori dell'Arcos della Super Cheops dell'Arcos fino ad uscire dal secondo foro di questa Tinos. Così inseriamo tre Rokai 11.0 e ci andiamo ad inserire nell'ultimo foro di questa Arcos. Poi dobbiamo inserire altre tre Rokai 11.0 e ci andiamo ad inserire in questo foro della Super Cheops. Dopodiché ne inseriamo altre tre di Rokai 11.0 e ci andiamo ad inserire nell'ultimo foro di questa Arcos. E così dobbiamo fare fino a completare il giro di 3 Rokai 11.0. Una volta che abbiamo completato tutto il giro di Rokai 11.0 dobbiamo portarci ad uscire da queste tre Rokai 11.0 che si trovano al di sopra della Super Cheops. E così dobbiamo fare la solina inserendo 6 Rokai 11.0 e ci andiamo ad inserire in queste tre Rokai 11.0. Queste sei Rokai 11.0 dobbiamo inserirle soltanto all'estremità del bracciale, cioè dove mettiamo il moschettone e dove mettiamo gli anellini. Adesso dobbiamo portarci ad uscire dal lato opposto e come vi dicevo poco fa qui dobbiamo inserire soltanto cinque Rokai 11.0 ed infilarci in queste tre Rokai 11.0. ovviamente poi ripassiamo per dare più stabilità al lavoro ed il primo modulino è concluso. Adesso passiamo al secondo e ci ritroviamo tra poco in modo che io vi farò vedere come agganciarlo. Una volta che ci siamo avviati a fare anche il secondo modulino e ci ritroviamo ad uscire da questa Rokai 11.0 al di sopra della Super Cheops dobbiamo agganciarci al primo modulino e prima cosa di tutto dobbiamo accertarci che il verso delle Tinos sia uguale. Così dopo prendiamo due Rokai 11.0 sul nostro ago e dobbiamo andarci ad agganciare nella Rokai 11.0 e dobbiamo tirare il filo. Dopodiché dobbiamo inserire altre due Rokai 11.0 sul nostro ago e ci andiamo ad inserire in queste tre Rokai 11.0 dopo la Super Cheops. Non vi preoccupate se al momento avvertite il lavoro molle ma adesso lo andremo a rafforzare e portiamoci con il nostro ago ad uscire da queste tre Rokai 11.0. Una volta che ci ritroviamo qui dobbiamo inserire come abbiamo fatto prima 5 Rokai 11.0 e ci andiamo ad inserire in queste tre Rokai 11.0 dopo la Super Cheops. Dopodiché portiamoci ad uscire da queste tre Rokai 11.0, inseriamo una minus, un mezzo cristallo da 4 mm, una minus e ci andiamo ad inserire in queste tre Rokai 11.0 che appartengono al primo modulino. La stessa cosa dall'altro lato e quindi dobbiamo portarci ad uscire da queste tre Rokai 11.0. Una volta usciti da qui inseriamo come lì una minus, un mezzo cristallo da 4 mm ed un'altra minus e ci inseriamo in queste tre Rokai 11.0. Dopodiché ripassiamo tra le perline ed anche questo secondo modulino è terminato e così dobbiamo procedere con il nostro lavoro. Ovviamente ognuno di voi dovrà regolarsi con la lunghezza del bracciale, io ho tenuto conto del mio polso e quindi ci sono voluti cinque modulini. Adesso continuiamo a fare questi modulini e ci ritroviamo insieme alla fine prima di chiudere tutto il lavoro. Ed eccoci qui, io sono quasi arrivata alla fine del mio sesto modulino, prima mi sono confusa, avevo detto che per il mio polso ce ne sarebbero voluti cinque, ma in realtà sono ben sei modulini, quindi prima di chiudere con la solina dove poi andremo a mettere gli anellini ricordiamoci di inserire sei Rokai 11.0 perché devono essere pari appunto. Quindi chiudo il lavoro e poi è terminato. Ed eccoci qui al lavoro terminato, spero vi sia piaciuto, ma adesso continueremo a lavorare insieme per fare l'anellino che consiste nello stesso modulino del bracciale, non dobbiamo utilizzare né i mezzi cristalli da 4 mm né le Minos, ma soltanto le Tinos, le Arcos, le Super Cheops e le Rokai 11.0 che ci serviranno anche per fare la fascia dell'anellino appunto. Quindi rimettiamoci al lavoro. Dopo che ci siamo avviati a fare un modulino per fare l'anello, dobbiamo inserire sul nostro ago sia da una parte che dall'altra 5 Rokai 11.0 e ci andiamo ad inserire nelle 3 Rokai 11.0 dopo la Super Cheops. Dopodiché ci dobbiamo fare lo stesso anche dall'altro lato. Inseriamo anche da questo lato 5 Rokai 11.0 e ci andiamo ad inserire nelle 3 Rokai successive. Dopodiché ritorniamo ad uscire dalla Rokai che sta in mezzo qui delle 5. Eccoci qua, dopodiché inizieremo a lavorare da questo lato per fare la fascia. Ovviamente ognuno di voi dovrà regolarsi con la misura, per il mio dito ci vorranno 7 giri di Rokai 11.0. Quindi inseriamo sul nostro ago altre 5 Rokai 11.0 e rientriamo dal lato opposto da quella da dove siamo usciti. Ripassiamo nel cerchietto che si è appena formato per dare più stabilità al lavoro ed usciamo dalla Rokai che sta in mezzo di queste 5. Come abbiamo fatto poco fa ed inseriamo altre 5 Rokai 11.0 e ci infiliamo dall'altro lato della Rokai. Proprio così e come prima ripassiamo nel cerchietto ed usciamo dalla Rokai che sta in mezzo e così dobbiamo fare fino a completare tutta la fascia. Arrivata alla misura che ognuno di noi ritiene opportuna, quindi devo chiudere la fascia, devo inserire soltanto 4 Rokai 11.0 e mi vado ad inserire sempre dal lato opposto della Rokai che sta in mezzo. Dopodiché per andarmi ad agganciare all'altro lato mi infilo nelle prime due Rokai 11.0 e mi vado ad inserire nella Rokai che sta in mezzo delle 5, dal lato opposto. Ripasso nel cerchietto e anche l'anello è terminato. Spero che questi due progetti vi siano piaciuti e nell'info box troverete il link che vi rimanderà ai kit creativi in vendita su Perline Fantasy. Io vi consiglio di dare un'occhiata al negozio perché ha veramente tantissime cose e tantissime novità e nell'info box troverete i vari link utili. Io ringrazio nuovamente Cristina per questa bellissima opportunità, grazie, grazie, ciao a tutti e al prossimo video. Un bacione!